Marco Chiarini non torna indietro, dimissioni confermate da assessore alla cultura del comune di Teramo. Il regista teramano nel dimettersi dopo cinque mesi dall'incarico aveva dichiarato esplicitamente in una lettera indirizzata al sindaco che la causa del suo addio era dovuto alla guerra interna che la sua stessa maggioranza gli aveva riservato. Un brutto colpo d'immagine per la giunta Brucchi che sembra vacillare fortemente anche dopo il mancato numero legale dell'ultimo consiglio comunale. Le dimissioni di Chiarini rappresentano la fine del Brucchi Ter, di quella nuova giunta, nuova vecchia giunta che doveva segnare la nuova prospettiva di questa città. Ovviamente questo tentativo è innaufragato miseramente perché questa esperienza politica ormai si è già chiusa. Al di là delle dimissioni, quelle che sono le motivazioni delle dimissioni stesse costituiscono il vero significato politico, hanno un significato politico da mettere in evidenza. Perché Chiarini disegna una giunta e una maggioranza politica come una lotta fra fazioni, una guerra fra bande e gruppi politici in cerca solo di conservare il potere. Parla di un sistema di potere che non si riesce a cambiare. È quello che noi abbiamo sempre denunciato. E dopo aver monitorato i danni delle ultime scosse di terremoto, il sindaco Brucchi riunisce d'urgenza i suoi alleati politici per verificare questa volta la stabilità della sua maggioranza. Intorno ad un tavolo, proprio tutti, assicura Brucchi, hanno confermato fedeltà al primo cittadino. Anche Alfonso Dodo di Sabatino Martina, leader di Teramo soprattutto, l'alleato più riottoso e polemico. Fiducia degli alleati al sindaco Brucchi, ma una fiducia a tempo fino a dicembre. Che senso ha? Legare l'eventuale sopravvivenza di questa amministrazione con tutte le criticità del caso a una data, francamente, sia abbastanza riduttivo. Comunque, lei fedeltà l'ha data al sindaco? Io l'ho data nella misura in cui continuo a ritenere e a ripetere che questa amministrazione non va bene e che ha bisogno di cambiamenti radicali. Sono convinto che non si possa riduttivamente pensare che sia un problema politico e basta, ma sia un problema di carattere amministrativo. Insomma, avanti tutta senza l'assessore Chiarini. La poltrona della cultura resterà vuota. Sembrano interessi a nessuno.